Ad escavano le loro vittime su internet attraverso falsi annunci per venditi online oppure tramite profili falsi su siti per incontri sessuali. Poi, una volta fissato l'appuntamento, si facevano consegnare dietro la minaccia di un coltello denaro ed oggetti di valore. Un cobione seguito alla perfezione in diverse occasioni da una banda di malviventi ritenuta responsabile di una serie di rapine messe a segno nel territorio di Bari e provincia. A fermarla ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato che, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo, hanno tratto in arresto tre persone nel corso di un'operazione eseguita a Cassano delle Murge. Si tratta del 25enne barese Gaetano Fraddosio, già noto alle forze dell'ordine, Luana De Girolamo, 22 anni incensurata, e Margherita Fraddosio, trentenne con precedenti, finita ai domiciliari. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di acquisire diversi elementi di colpevolezza a carico dei tre che si muovevano secondo uno schema ben definito. Le due donne, rispettivamente compagna e sorella dell'arrestato, una volta pesato l'incontro con lo sventurato di turno, in un luogo appartato, venivano raggiunte dal 25enne che, armato di coltello, aggrediva la vittima, sottraendole con tanti e preziosi. Nel corso di una rapina, avvenuta a Bari il 6 dicembre dello scorso anno, simulando un appuntamento per la vendita di un cellulare. L'uomo, incitato dalla fidanzata, aveva coltellato più volte il malcapitato cliente alle spalle e alla nuca, tanto che la vittima venne ricoverata d'urgenza in ospedale, inizialmente in gravi condizioni. Un secondo episodio, in base a quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Molfetta, si sarebbe verificato invece nel mese precedente, questa volta nel comune di Giovinazzo. I tre sono accusati a vario titolo dei reati di tentato, omicidio, rapina pluriaggravata continuata e possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Proseguono invece le indagini delle forze dell'ordine per verificare la responsabilità degli arrestati in merito ad altri colpi messi assegno con le stesse modalità.